Se avete piacere iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo video. Ora, questa sera la Juventus a Udine non avrà vinto la Champions, ma non mi piace neanche coloro che si tirano sempre costantemente le martellate sui maroni. Scusate il francesismo, perché ho già letto, no? Un occhio pressoché clinico sulla ripresa. Signore, signori, 20 agosto, prima di campionato, la Juventus in 48 minuti la chiude a tripla mandata. Chiesa, Vlaovic e Rabiot. Credo che possano esserci anche inizi peggiori, bisogna essere onesti. Allora, ottima la prima, non buona, secondo me ottima, perché il primo tempo è stato di livello assoluto per intensità, coraggio, idee, identità. Io ho visto cose molto interessanti che lasciano presagire che questa possa essere una buona stagione per la Juve. Se sarà una stagione da estremo vertice, da mini vertice, non da vertice, questo lo capiremo cammin facendo. Ma la sensazione è che potendo lavorare, purtroppo, perché la Juventus dovrebbe militare in Champions, su un appuntamento settimanale, barra due, quando ci sarà la Coppa Italia, beh, mi sembra che ci siano tutti, ma proprio tutti, i presupposti per poter fare un buon campionato, un bel campionato. Faccio fatica oggi a trovare cose che non mi siano piaciute? Sì, sicuramente nella ripresa gudinese è arrivata con più facilità a calciare, Scesni ha disinescato un paio di tentativi dei padroni di casa piuttosto interessanti. In generale, quando si è visto Samarzic subentrare, proprio a inizio di presa, è cambiata un po' la manovra ludinese, perché parliamo di un talento allo stato puro che riesce a far girare la squadra con qualità, con personalità, palla corta, palla lunga. Ecco, io, però questa non è una notizia, onestamente, post fumata nera con l'Inter su Samarzic farei un pensiero anche piuttosto corposo, perché mi sembra che questo ragazzo abbia talento da vendere. Tornando alle dinamiche juventine, nel primo tempo si è visto già tutto ciò che era andato in scena nel precampionato, perché comunque noi avevamo detto che i segnali sono differenti quando abbiamo visto la partita con il Milan, quella con la Real Madrid, quella con l'Atalanta. Nel primo tempo con l'Atalanta è stato molto buono, molto buono, con la Juve sprecona. Questa volta invece la Juventus è stata fortunatamente più cinica, questo fa la differenza. Ma si vede che la Juve si procura il rigore del 2-0, con Alexandro che calcia la palla e trova la mano dell'avversario, e il gruppo esulta con rabbia, va a incitare Alexandro, vuol dire che sei il giusto focus, che tutti rimanano dalla stessa parte e che ci sia voglia di costruire una bella stagione. Sono questi gesti che fanno davvero capire come il gruppo squadra sia decisamente sul pezzo. E poi, ovvio che le qualità individuali fanno la differenza, perché Chiesa, testuale di Allegri, ha un'altra gamba rispetto alla passata stagione, è normale che sia così, perché è rimasto fuori nove mesi, questo va sempre ricordato, e se Chiesa sta bene l'hashtag già lo conoscete, Chiesa più altri dieci, è quello che ripeto da quando è arrivato Federico a Torino, è un top player assoluto, ma su scala internazionale. Se sta bene lui, quindi fa la differenza, se Vlaovic finalmente riesce a spedire nel dimenticatorio questo ricordo legato alla pubalgia, poi ne parliamo, cioè sono individualità importanti settate sul giusto schieramento, perché mi sembra che in questo momento il 3-5-2, che poi bisogna parlare più di spazi anziché di moduli, però mi sembra che possa esaltare le caratteristiche dei singoli. Vogliamo parlare di Cambiaso, uno dei migliori in campo, assist, ma in generale è un giocatore che entra dentro il campo, che quindi giocando con due piedi ti fornisce più possibilità in fase di costruzione, sa andare in sovrapposizione, sa triangolare, sa difendere, e questo mi sembra che possa essere un innesto davvero notevolissimo. E vediamo cosa succede con Kosic, che oggi neanche è entrato, perché al settantesimo poi quando è uscito Cambiaso ha fatto il suo ingresso, Iling Junior, però in generale si è vista una squadra con identità ben definita, e questo per me è fondamentale, perché se lo scheletro è settato sulle giuste frequenze, poi si può lavorare sui dettagli che fanno la differenza, perché poi non si può pensare che un 3-0 all'Udinese spiani la strada alla Juventus verso una cavalcata trionfale verso lo Scudetto. Auspicchiamo che sia così, ma sicuramente arriveranno anche test più probanti, partite più complicate, e arriveranno anche inevitabilmente i momenti più difficili. Però lo scheletro c'è, lo scheletro c'è, c'è una squadra, nella passata stagione quante volte abbiamo detto questa non è una squadra, oggi diciamo questa è una squadra, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con i suoi punti di forza, con i suoi punti di debolezza, ma ci sono ampie basi sulle quali poter lavorare per cercare di perfezionarsi. Per esempio a centrocampo si può fare ancora di più, perché oggi devo dire che Locatelli mi sembra che abbia fatto una partita molto onessa, poteva risparmiarsi quel giallo nel finale, rabbiò neanche a parlarne, prima partita, gol, e poi ecco, sulla mezzala a destra si può migliorare, perché Mirette ha sbagliato tanto nel primo tempo, Fagioli ha fatto vedere che probabilmente a livello anche di tecnica è superiore in questo momento a Miretti, e quindi con Fagioli che torna al 100%, potremmo ricitare quel motivetto che soprattutto nel finale del 2022 aveva contraddistinto l'ascesa della Juve, non dimentichiamolo, non dimentichiamoci la performance per esempio della Juve a San Siro contro l'Inter con Fagioli a dominare. Quante volte abbiamo detto Fagioli, Locatelli, Rabbiò è il trio titolare di questa squadra? Poi è chiaro che se sul mercato riesce a fare qualcos'altro, ma a centrocampo per il momento non abbiamo segnali, si può in futuro migliorare, ma al momento bisogna ottimizzare le risorse di disposizione, quindi oggi forse a centrocampo a destra sull'asse UEA e Miretti sono visti troppi errori, lì si lavorerà, UEA oggi ha fatto il suo risordio in Serie A, e quindi ci sono delle cose che deve migliorare e dovrà migliorarle. Cioè su Miretti, vedremo poi quale sarà la decisione finale della Juventus e tenerlo, magari se darlo al Monza, al Bologna, insomma, però io oggi credo che i pro superino abbondantemente i contro, d'altra parte il risultato non mente, non do insufficienze oggi, voglio però al di là di alloggiare l'MVP chiesa, anche sottolineare la performance di Cambiaso e devo dire che anche dietro abbastanza solidi, soprattutto nel primo tempo, il trio brasiliano, Schesnig si porta a casa un bel 7, è chiamato in causa poche volte, ma quando l'ha fatto, ha fatto la differenza. Insomma, io onestamente credo che la Juventus sia partita come doveva partire, con una performance convincente che ti deve dare autostima. Quando torni alla Continassa, per preparare poi il primo impegno casalingo ufficiale di questa stagione, ecco, devi avere la consapevolezza di essere forte. Tu, quando hai Chiesa, Vlaovic, Rabiot, Schesnig, Danilo, beh, tu sei forte. Questo ti devi ficare in testa. Poi i tuoi limiti, magari gli altri saranno più avanti, il Napoli è favorito, l'Inter è una bella squadra, il Milan lo vedremo, ma ha fatto un bel mercato, però tu sei forte. Questo devi incuccarti, metterlo qua, devi mettertelo qua, mettertelo qua e devi capire che con un impegno a settimana si può fare tanta strada, si può fare tanta strada. Felice per l'esordio in Serie A di Hildiz, che mi sembra che abbia fatto davvero una bella performance, questo ragazzo davvero è notevolissimo, giovanissimo, quindi la Juventus comunque propone davvero un serbatoio interessante. Questo è Udinese Juventus 03, scrivetemi nei commenti qual è il vostro punto di vista, vi do appuntamento domani mattina per andare ancora più in profondità su questa partita e domani sera alle 11 in inglese, live con JGSU, è proprio qua sul mio piano YouTube.